Pillole per la memoria. Alcuni ingredienti naturali possono effettivamente dare una spinta alle tue capacità cognitive. Immagina di accedere a una parte della tua mente che ti permette di ricordare i dettagli più minuti con facilità, di concentrarti senza sforzo e di mantenere alta l'attenzione anche nelle giornate più frenetiche. Al centro di questa rivoluzione per il benessere del cervello ci sono ingredienti come la CDP colina, che è un nutriente essenziale per i neuroni e che favorisce attenzione e concentrazione. Pensa alla CDP colina come a un carburante di massima qualità per la tua auto. Senza di esso potresti comunque andare avanti, ma con quello giusto la tua macchina mentale può funzionare al massimo delle sue capacità. Poi abbiamo la bacopa monnieri, che è un'erba tradizionalmente usata per potenziare la memoria e le capacità cognitive. È come avere un architetto per il tuo cervello, che costruisce ponti tra le sinapsi per rendere il flusso di informazioni più veloce ed efficiente. Infine l'L-teanina. Essa imposta le tue onde cerebrali sulla frequenza alfa, perciò aiuta a ridurre lo stress senza causare sonnolenza, preparando il tuo cervello a uno stato di focalizzazione e calma interiore. È fondamentale che la formulazione comprenda tutti questi ingredienti naturali insieme e soprattutto che sia incompresse da sciogliere in bocca, poiché ciò favorisce l'arrivo immediato degli ingredienti naturali al cervello. Immagina questa modalità di somministrazione come un accesso VIP al tuo cervello. Non ci sono code, non ci sono attese e possono agire già nell'arco di 30 minuti dall'assunzione. Sono proprio queste le caratteristiche di Lion's Mind e se desideri integrarlo nella tua routine di benessere cerebrale quotidiano, te lo lascio sul link nel mio profilo.